Entra in Control Casa, la domotica è voluta! Control Casa è una scelta di stile che consente un comfort abitativo al passo con la tecnologia più avanzata e senza compromessi anche sotto il profilo estetico. EvoChef è un esempio delle tante funzioni disponibili con Control Casa, predisponi il pranzo nel forno e dedicati alla tua vita. Pochi semplici tocchi sul tuo smartphone, tablet o qualsiasi strumento collegato alla rete internet ti permetteranno, ovunque ti trovi, di abilitare le funzioni impostate e trovare al tuo rientro a casa il calore di un pranzo da gustare senza altre preoccupazioni. Con EvoChef il pranzo è servito quando vuoi tu! Ciao! 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 Ciao!